Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video che inizia con una fatidica domanda Quanti matrimoni avete quest'anno? Io ne ho 6, anzi da adesso ne ho 5 perché a uno sono già stata e nel totale erano 8, abbiamo dovuto fare delle scelte e quindi alla fine sono 6 sono un bel po' e quindi questo mi ha dato l'ispirazione per fare questo video in cui andremo a creare un look da cerimonia che potrete sfoggiare con qualsiasi outfit quindi un look passepartout diciamo, oltretutto ho fatto lo step successivo, sarà tutto composto da prodotti sotto i 10 euro che non è male se vogliamo ottenere un makeup comunque a lunga tenuta, perfetto, flawless e anche leggero perché comunque non deve farci venire voglia di strapparci la faccia durante le promesse degli sposi, giusto? quindi i prodotti sono tutti sotto i 10 euro ma gli step sono tanti e all'interno vi darò tante tip una tra tutte però ve la do all'inizio mai come in questo tipo di makeup è importante la frase del celebre architetto Miss Van Der Rohe less is more ovvero meno e più poco prodotto, ben lavorato ma davvero poco cioè andiamo per gradi perché riuscire a ottenere un bel makeup spatolandoci in faccia chili e chili di makeup è assolutamente impossibile quindi andiamo appunto per poco prodotto ben piazzato e in questo modo si ottiene sicuramente una full face più che dignitosa ma anche portabile che a fine giornata non ci sentiamo come se avessimo l'argilla in faccia quindi vi avvicino, mi metto le mie pinzette e cominciamo ovviamente è fondamentale skin prep quindi avere una buona skincare alla base quella è veramente fondamentale perché se no potete fare la base più bella che volete ma se non avete fatto una buona skincare al di sotto potete sognarvi un risultato flawless e poi si parte dal primer ovviamente io il primer lo straconsiglio quando si fa questo genere di makeup perché serve non solo a mantenere più a lungo la base insomma a farla aderire meglio ma in generale ci crea anche una barriera un po' più protettiva e visto che dobbiamo tenere il makeup tutto il giorno fa sembrare molto meno pesante la base al di sopra quindi vi consiglio di usare un primer e io vado a usare lo Zero Thin Face Primer di Astra che è un ottimo primer che va a diciamo un po' opacizzare, un po' lisciare però non è di quelli che seccano quindi ha un potere anche non dico idratante ma che sicuramente non secca poi come fondotinta voglio usare lo Stay All Day di Essence perché lo conosco perché so che è un ottimo fondotinta Long Lasting lo dice anche il nome Long Lasting Foundation effettivamente dura molto bene e anche waterproof quindi si asciuga, un effetto opaco, semi-matte, cipriato però anche questo non asciuga troppo, non secca troppo però lo voglio rendere un pochino più illuminante quindi ci aggiungo due gocce di Magic Filter Glow Booster sempre di Essence come vi ho detto ce ne va poco quindi inizio con poca quantità e anche poca di questo quindi davvero una mezza pump mescolo insieme col dito e poi inizio ad applicarlo così in giro se avete bisogno di correggere un po' di imperfezione rossa rifatelo prima perché in questo modo andate poi anche a coprire eventuali correttori verdi o troppo aranciati con il fondotinta poi quando io devo fare questo genere di base di solito stendo tutto con un pennello e poi vado dopo con una spugnetta proprio quasi a rimuovere l'eccesso e mi raccomando non strisciate ma tamburellate così tamponate e poi al massimo lavorate per cerchi e una cosa molto importante è concentrare più prodotto dove ne avete più bisogno cioè per esempio io qua sotto non ho bisogno di tanto fondotinta cioè perché dovrei metterne tanto non ho molto da coprire quindi porto proprio solo i rimasugli senza esagerare anche questo aiuta a appesantire il meno possibile la base peraltro questo è abbastanza scuro quindi adesso poi lo vado a sistemare col correttore ora non solo vado a passare la spugnetta la imbevo di spray fissante allora questo è l'unico prodotto che costa 10,90€ però mi sono sentita di metterlo perché ha un mist quindi uno spray così fine, nebulizzato e il prodotto in sé mi piace davvero tanto trovo che aiuti davvero a prolungare la durata del make up e anche a togliere eventuale polverosità a idratare però fissare è davvero ottimo è di elf e vado a spruzzare la mia spugnetta con lo spray in questo modo inizio a dare diciamo già una prima fissata la passo su tutto il viso proprio per andare a togliere eventuali eccessi soprattutto dove ho magari un po' di rughe d'espressione qua ai lati del naso poi io vado a mettere giusto una punta di fluid concealer di astra tonalità 3 che è abbastanza scura per andare a contrastare un pochino l'occhiaia ma vedete proprio cioè stiamo parlando di come se non l'avessi messo quasi questa deve essere la quantità giusta al massimo si può sempre andare ad aggiungere un pochino ma meglio evitare di fare proprio le swipate solite perché per esempio per makeup che appunto non devono durare proprio tutto il giorno quello non è un problema ma voi immaginate è un matrimonio il caldo i baci, abbracci, pianti cioè non si può fare una base che uno fa magari per uno shooting fotografico capito? proprio una cosa completamente diversa quindi come correttore illuminante invece uso il 100% clean di Debbie e come vi dicevo anche qua andiamo per gradi cominciamo con questa quantità e vado anche a metterla un pochino nel centro del viso e un po' qua solo perché il fondotinta è un pochino oscuro in questo modo andiamo a schiarirlo leggermente tra l'altro qua ho un sacco di imperfezioni quindi copriamole un po' va come sempre la mia spugnetta che tanto ho già un po' imbevuto di spray quindi mi aiuta e adesso una bella spruzzata di spray perché sì cioè bisogna spruzzarlo tra uno step e l'altro se vogliamo che proprio duri passiamo al bronzer vado a metterne uno in crema un'altra cosa molto utile secondo me è fare gli step in crema e poi in polvere quindi crema come base polvere per fissare si mette poco prodotto di entrambi però crea proprio una bella presa quindi questo è quello di Catrice Melted Sun e delicatamente vado a fare un po' di bronzing essenzialmente e quando pensate forse ne metto ancora un po' ecco lì è quando vi fermate fate un passo indietro e dite no secondo me ce n'è abbastanza perché vi assicuro ce ne sarà abbastanza non volete fare qualcosa di troppo pesante sicuramente e quindi basta poco però vedete che già crea dimensione tanto poi andiamo anche con la polvere quindi non c'è bisogno di altro stessa cosa per il blush e qua me lo dico a me stessa Gaia contienti non ti devi ricoprire di blush per essere felice in realtà sì quindi sul blush secondo me si può essere più elastici sono assolutamente convinta di questo quindi possiamo metterne un po' di più alla faccia delle sismore tanto zannato ma anche qua non esageriamo perché di nuovo se poi deve durare tutto il giorno voi immaginate che magari cioè comunque può capitare tra baci a braci cioè il make up si sposta si toglie trasferisce quindi meglio metterne non troppo così almeno anche se magari si dovesse un po' diciamo rovinare non si vede tanto comunque baby goat blush di essence e andiamo dove vogliamo insomma a me piace metterlo come sapete in abbondanza un po' ovunque quindi cominciamo con questa quantità e poi vediamo di nuovo non swipeate non strisciate ma tamponate in questo modo si distribuisce bene e non spostate il fondotinta al di sotto onestamente ce ne va ancora proprio l'ha prescritto il medico quello che davvero mi piace di te è la coerenza anzi sporco direttamente le setole del pennello così faccio ancora prima molto bene molto molto bene ripassatina di spugnetta che è uniforma toglie eccessi e fa tante cose positive e passiamo alle polveri io di solito evito di incipriare e poi mettere bronzer e blush perché sono troppe polveri non servono se io vado già al di sopra del bronzer con un bronzer in polvere e al di sopra del blush con un blush in polvere sto già mettendo polveri che fissano quindi sun experience di Debbie non esageriamo di nuovo prendo batto via l'eccesso e poi vado anche qua un po' tampono un po' striscio ma delicatamente cioè non mi porto via il fondotinta e vedete che mi ha già opacizzata cioè non ho bisogno di mettere altra cipria qua e poi blush crush di essence tonalità 20 anche qua picchia proprio mi picchia col pennello così ora la cipra ci serve semplicemente per andare a fissare il correttore un po' qua che vedete che sono un po' troppo lucida e qua sotto perché comunque è un pochino appiccicosino ecco ovviamente powder puff cipria di rimmel imbevo il mio cioè imbevo non credo si possa dire vi sto usando una polvere comunque riempio per bene il mio powder puff e poi lo scarico sulla mano ma non vi preoccupate perché questa polvere non andrà sprecata poi la riprendiamo però almeno non me la spataro tutta in un punto e vado con molta precisione dove voglio fissare soprattutto tipo ai lati del naso perché se mettete gli occhiali da sole vi assicuro che vi servirà un po' di cipria qua e poi vado a riprendere quella che ho messo sulla mano e a fare l'altro lato ora ne prendo altra fisso un po' qua e qua sotto non solo per fissare ma anche perché qua mi piace dare un po' di definizione in più quindi se io vado a fare un po' questo lavoro qua vedete che mi ripulisce un pochino sotto il bronzer e mi fa un po' l'effetto più definito e voilà abbiamo una base bella incipriata opaca quindi faccio ancora una passata di spray fissante e ma questo è opzionale però se ancora vi piace l'illuminante perché a quanto ho capito è passato di moda ma facciamolo ritornare in audio vi prego vado a mettere un po' di hello glow di elf al posto di andare così vi faccio vedere una cosa più intelligente ne metto un po' sulla mano questo è fin troppo vabbè ormai è uscito accidenti e poi con un dito vado a metterlo proprio solo dove lo voglio bello 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 cioè io sto usando gli stessi prodotti che uso sempre però l'applicazione è un po' più pensata no? ci va ovviamente più tempo cioè perché uno non si trucca così tutti i giorni perché ci va più tempo cioè a fare anche solo le passate di spray eccetera ci va tempo quindi a meno che non si abbia un'occasione speciale per cui uno ha il tempo di avere tutti questi accorgimenti normalmente uno dice vabbè tanto non è che a lavoro vi fanno le foto magari quindi non dovete avere tutte queste attenzioni però invece a matrimonio comunque si sa che il fotografo è dietro l'angolo e noi vogliamo apparire perfette meglio della sposa non scherzo le spose sono sacre allora direi che qua siamo soddisfatti vado a fare le sopracciglia che faccio con il brow lift di ELF che è un gel per pettinarle e la matita la geisha brow di Astra allora vi posso dire onestamente che normalmente userei una brow pen tipo quella di NYX che però costa più di 10 euro e quindi useremo la matita costa più di 10 euro siamo sicuri di questo ho controllato forse no lift and smash si costa di più ma comunque faremo delle bellissime sopracciglia anche con la matita non ho dubbio anche perché la geisha brow di Astra comunque mi piace molto vado proprio solo a riempire i buchi e a fare un po' la codina direi che siamo più che soddisfatti di queste sopracciglia e passiamo agli occhi vado ad usare un primer questo qua di Essence Prime Like a Boss che è molto carino sembra un po' tipo il Primer Potion di Urban Decay come feeling cioè uno di quei primer un po' siliconici però effettivamente prolunga bene la durata fa una bella presa come palette utilizzo la Ultimate Nudes di Revolution nella tonalità medium in realtà va bene una qualsiasi palette che abbia dei colorini da transizione cioè questa l'ho presa letteralmente solo per quello non useremo gli shimmer di questa palette e vado a fare un mix di queste due tonalità una un po' più rosata una un po' più marroncina e inizio semplicemente a fare la mia transizione a riempire un po' la piega dell'occhio e in questo caso potete proprio scegliere la tonalità che più vi sta meglio che sta meglio col vestito secondo me è una tonalità così pescatina oddio su di me potrebbe anche starci qualcosa di un po' più freddo però non mi dispiace in realtà trovo che sia di un po' di vivacità anche poi che matrimonio sarebbe senza un po' di luminosità e glitter non sarebbe un matrimonio finirebbe probabilmente malissimo quindi dobbiamo salvare questa coppia con i nostri glitter prendo il luminous eye tint di essence che è un ombretto liquido e prelevo un po' con un pennellino che è la scelta migliore se volete essere più precisi e vado a colorarmi tutta la palpebra praticamente lo distribuisco lo sfumo anche un po' verso il pesca così non ci sono stacchinetti e poi prendo il chromotherapy di Astra questa è la tonalità 1 che è un glitter diciamo sul platino in realtà vabbè anche dei riflessi un po' verdini però si perdono un po' quando si mettono sugli occhi e ne prelevo un po' anche qua e li distribuisco su tutta la palpebra e vedete già com'è mamma mia i glitter risolvono tutti i problemi tutti non c'è problema che un glitter non possa risolvere cheat basic guy 2024 abbondo un po' nell'angolo interno che deve brillare più di ogni altra cosa e infine prendo una matita possibilmente waterproof questa è di Rimmel la Scandalize che vado a mettere molto molto attaccato alla rima cigliare così e poi un pennellino a penna prima che si asciughi la sfumo anche un po' verso l'esterno la tiro in modo che si formi una codina però come vedete già sfumata e poi con quello che rimane sul pennello senza prendere altro colore sporco un pochino sotto le ciglia per creare un po' di intensità però che non sia esagerata questo forse sarà lo step che vi richiede più tempo ma semplicemente perché è meglio mettere anche qua poca poca e sfumarla subito e quindi richiede un attimino più di tempo però almeno riuscite a sfumare bene e non esagerare non fare effetto panda poi se volete un po' l'effetto bambolina occhio più illuminato occhio più aperto una matita chiara in questo caso io uso la matita di neve cosmetics classics che è un grigio chiaro e infine mascara che ovviamente vabbè se pensate di piangere vi consiglio waterproof io ne uso uno incurvante che è di elf il national roll in realtà ho rifatto la laminazione da poco ed è venuta talmente bene che potrei mettere qualsiasi mascara anche il più scrauso della mia collection e mi verrebbero delle cilia pazzesche cioè vi giuro questa laminazione non so come gli si è uscita così bene ma è incredibile siamo alla combo labbra e vi devo dire ne ho trovata una che è bellissima tra l'altro anche molto comoda perché si tratta vabbè della line loud di nyx professional makeup numero 32 e il nuovo mascara lip criminal di astra numero 2 che ho notato avere una tenuta incredibile nonostante sia un rossetto cremoso all'inizio è molto cremoso e anche lucido ma man mano che uno va avanti con la giornata l'effetto lucido va via ma il colore rimane molto cioè è decisamente long lasting per essere un rossetto cremoso e anche mangiando per esempio se ne va via davvero molto bene quindi mi è piaciuto tantissimo ho pensato questo per un matrimonio davvero comodo e perfetto costa niente e anche questa tita di nyx ha un'ottima tenuta quindi io cioè l'ho tenuta davvero hai 10 ore questa combo labbra e il rossetto l'ho un po' riapplicato durante la giornata ma proprio anche solo picchiettando io sono arrivata a casa che avevo le labbra perfette ma si diamola un'ultima spruzzata di spray e voilà fatemi sapere cosa ne pensate se vi ha dato ispirazione per il prossimo matrimonio a cui dovrete partecipare fatemi sapere quanti ne avete sono molto curiosa lo faccio vedere ovviamente alla luce naturale io sono veramente contenta mi piace un sacco non mi sento appesantita non sento la pelle che tira è proprio lì tutto molto fermo ma leggero quindi sono davvero soddisfatta se siete arrivati a questo punto del video commentate con l'emoji degli sposi di sposa sposi quelli che volete e noi ci vediamo nel prossimo video peace out potevo anche dire e noi ci vediamo nel prossimo matrimonio peace out ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di basic gaia completamente voilà ora la cifra ci serve semplicemente ultimate news di revolution che forse ultimate perché mi stava chiamando mia zia e fatemi no fatemi sapere niente che no Grazie a tutti.